bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità per quello che riguarda il futuro di fortnite beh siamo tutti reduci ancora da quel meraviglioso concerto ma le novità non mancano tante news la nuova patch i numeri da sapere e qualche piccola informazione sul possibile ritorno della vecchia mappa non voglio spoilerarvi volevo invece ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news ma lo sapete che ci tengo tantissimo a farvi la domandina prima di iniziare il video vero e proprio leggo i vostri commenti proprio qua sotto e la domanda di oggi dai l'avete già sicuramente capita come ti è sembrato l'evento il concerto abbiamo visto cose che io non pensavo di vedere su fortnite è stata un'esperienza perché più che un concerto è stata un'esperienza non ho mai ascoltato in vita mia travis scott la canzone che ha fatta mi è piaciuto che ha fatto mi è piaciuto veramente mi è piaciuta veramente tantissimo tutti gli effetti tutto l'evento in sé secondo me possono tranquillamente essere inseriti nella top degli eventi di fortnite che abbiamo vissuto dalla season 3 fino ad oggi dimmi invece come ti è sembrato a te ci tengo qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito ragazzi a vedere anche una piccola precisazione sui prossimi eventi dell'astronomical astronomical vi ricordo è il nome appunto di questo evento siccome ci sono stati dei problemi soprattutto per quanto riguarda il salvataggio nei replay cosa che non è successa quindi nessuno ha potuto ha potuto rivedere di nuovo il concerto dopo averlo vissuto arriva un messaggio direttamente da fortnite status che ci informa che direttamente da oggi che dovrebbe esserci un nuovo concerto sempre uguale ovviamente ma una nuova data sarà poi possibile rivederlo nei replay la lobby sarà un pochettino più piccola quindi saranno dentro meno persone questo appunto risolverà un sacco di problemi e non causerà crash roba strana o appunto il non salvataggio quindi tanta roba gg per poterlo rivedere grazie epic games andiamo avanti invece con un altro argomento molto interessante è proprio in queste quattro parole we will get 12.50 update next week una conferma interessantissima che arriva per quanto riguarda porca di quella porca siamo andati troppo avanti per quanto riguarda l'update quindi l'aggiornamento della patch 12.50 che avevamo già scoperto settimana scorsa e che potrebbe vedere al suo interno il la nuova arma il missile teleguidato che però si allaccia direttamente agli elicotteri ve ne avevo già fatto menzione in qualche video fa avevamo anche visto che nei file di gioco è stato aggiornato il vecchio missile guidato solo che questo probabilmente non potremo guidarlo noi con il telecomando come facevamo appunto in season 4 ma direttamente lo potremo sparare sui veicoli secondo me traccerà anche le barche comunque tanta roba appena avremo delle informazioni sulla 12.50 le avrete anche voi e volevo spendere qualche parola ragazzi sul concerto di travis l'immagine che avete visto poco fa perché arriva un tweet direttamente da epic games da fortnite che conferma un nuovo guinness world record nella prima del concerto ci sono state 12,3 milioni di persone connesse contemporaneamente su fortnite in tutto il mondo a vedere il concerto in tempo reale è un numero veramente spaventoso una cosa che non si era mai vista fino al punto due giorni fa nella storia videoludica di un singolo gioco avevamo visto qualcosa di simile però ovviamente mi sto riferendo all'altro concerto quello di marshmallow dove in realtà c'era proprio marshmallow che dalla sua postazione in streaming andava a fare le sue tracce questo è stato un po diverso perché in realtà travis scott non era lì presente fisicamente ma stava facendo era già tutto pre registrato marshmallow infatti non si risparmia e commenta sulla sua pagina twitter il travis e fortnite concerto è stato fire 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 quindi una cosa veramente incredibile abbiamo però ragazzi avuto anche modo di vedere il motore grafico in azione il il caos engine è vero che tutti ci aspettavamo che il caos engine fosse distruzione cose in realtà è già stato inserito è stato implementato ma non lo stiamo vedendo al massimo della potenza con il concerto di travis molti degli effetti sono stati resi possibili grazie a questa nuova implementazione ed è una cosa che noi dobbiamo assolutamente ringraziare ringraziare anche perché direttamente gli stessi membri dello staff di epic games dicono che hanno creato tutto il concerto direttamente da casa un lavoro veramente coordinato una squadra che ha lavorato in una maniera incredibile perché io immagino che un conto è lavorare tutti assieme c'è un problema siamo lì ne parliamo un conto è lavorare ognuno a casa sua e non in azienda quindi veramente un lavoro mastodontico un numero incredibile guardate invece questo screen parlando di cose incredibili è uno screen meraviglioso preso direttamente nel momento in cui stiamo fluttuando sopra la mappa deve essere proprio quando termina l'acqua che scende sotto di noi lo avevamo già visto si ripresenta nuovamente la vecchia mappa di fortnite si scorge benissimo tilted tower si scorge benissimo parco pacifico mi viene un po la lacrima mi viene un po la lacrima perché è stato bellissimo rivedere per chi ce l'ha fatta comunque ci siamo qua sono qua io per farvi rivedere delle immagini cosa sta a significare questa vecchia mappa che ritorna è bella domanda ragazzi sinceramente non è stata lì messo a caso sicuramente non è una cosa buttata lì perché ovviamente ci sono voluti tanto c'è voluto tanto lavoro ma una cosa che ci fa veramente incuriosire è proprio il banner di mark rain mark rain vi ricordo è il ceo di fortnite da qualche mese quindi il capoccione di tutti che ha il banner della season 3 dove c'erano allora gli astronauti il nostro buon vecchio mietitore e tanta tanta roba potrebbe essere un chiaro segnale di un possibile ritorno della mappa vecchia nel futuro se ne parla tanto ma non si sa e per salutarvi ragazzi volevo invece parlarvi un secondo delle nuove fncs le fortnite championship series che sono state liccate o comunque annunciate da poche ore parliamo di una fncs tutta nuova dove i round di qualificazione inizieranno il 2 maggio 2020 andranno avanti per tutto il resto di questa season che vi ricordo terminerà il 4 giugno la cosa molto particolare di questa fncs è che saranno in singolo quindi tanta tanta roba tanta tanta competitività per arrivare a guadagnarsi il primo posto scusatemi un premio diviso per i vincitori di 2 milioni di dollari qualcosa di davvero incredibile avremo tutti l'accesso ovviamente e ovviamente auguro una buona fortuna a tutti voi insomma ragazzi anche oggi siamo riusciti a darvi tutte le news che dovevano essere dette di fortnite io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticatevi di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali e noi e io sono adesso in live su twitch ciao grazie a tutti grazie a tutti